Nel 2014 i tagli sui comuni calabresi ammontano a ben 307 milioni di euro, con una riduzione pari al 41,2% rispetto al 2009. In direzione opposta come meccanismo compensativo, le entrate correnti hanno fatto registrare una crescita pari a 220 milioni di euro. Un impoverimento dunque progressivo dei comuni, che malgrado gli evidenti sforzi compiuti dalle amministrazioni comunali per ridurre principalmente le spese legate ai costi della politica, hanno determinato una riduzione del 48,3% di trasferimenti in favore del Guelfar. I dati sono stati diffusi dall'Istituto Demoscopica, che ha analizzato l'andamento delle principali risorse comunali nel periodo 2009-2014. I trasferimenti subiscono un contraccolpo, un taglio per oltre 300 milioni di euro in cinque anni, il periodo analizzato 2009-2014, e per compensare questa sforbiciata da parte dell'istituzione ai vari livelli sovracomunali, i comuni si trovano davanti a una drammatica scelta. I sindaci sono, li abbiamo definiti, dei martiri della devolution, della devoluzione, sono chiamati a fare delle scelte molto difficili. O ridurre e tagliare i servizi, come il welfare sociale, l'assistenza agli anziali, l'istruzione, la scuola, la cultura, oppure dover aumentare la pressione tributaria alle famiglie, ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni sociali presenti sul territorio. In qualche modo la compensazione è chiara, si tratta di una guerra tra poveri perché lo Stato taglia i comuni, i comuni in qualche modo sono costretti ad aumentare le entrate tributarie. E questo è un circuito perverso che abbiamo appunto definito una guerra tra poveri.